Design emozionale per questa nuova Serie 3 Touring giunta alla sesta generazione. Cambia la fiancata, i fari tutti completamente a led di serie su tutte le vetture opzionali, pensate, sono arrivati anche i fari a laser dove puoi vedere nella notte fino a 500 metri. La rivoluzione di questa vettura però è la tecnologia on board, deriva da Serie 7 tantissimi sistemi di assistenza alla guida che anche Serie 3 appartiene alla guida di livello 2. Dotata di 4 telecamere che controllano il tuo comportamento, una davanti, una dietro e una laterale e se non tieni gli occhi sulla strada Serie 3 è pronta a riportarti all'ordine. Come? Con dei sognali visivi e sonori posti proprio sul volante e ovviamente anche con delle manovre che ti riportano prontamente in carreggiata. Il software di bordo funziona un po' come uno smartphone, è tutto digitale e è soggetto a continui aggiornamenti. Quindi se lo intendo è il 3 sul tempo, la prima volta in questa vettura a riportare il rapporto, è davvero 40 secondi dove potete registrare la vostra guida. In caso di incidente si può vedere e valutare come vi siete comportati. un porta bagagli davvero capiente, 500 litri di carico che a sedili completamente avvotuti diventa di 1.510. Guardate un po' la novità, queste barre di metallo a che cosa servono? Non è una decorazione estetica ma servono ad agevolare il mio bagaglio per farlo scivolare meglio. Voilà! E voi dite, sì ok scivola meglio ma mentre andiamo si muove. E no, perché si alzano di pochi millimetri automaticamente appena accendiamo il veicolo a 5 km orari e tengono proprio bloccato ben saldi tutti i nostri bagagli. Ovviamente su questa serie 3 Touring il 1.8 si apre in modo autonomo quindi se dovete mettere solo pochi oggetti o prendere una cosa al vostro antenetto come in questo caso ci sono voi, è davvero facile.